L'Aquila si prepara a ricordare il quindicesimo anniversario del terremoto del 6 aprile, quest'anno con un calendario vero e proprio di iniziative che partiranno domani e termineranno il 15 aprile e che vedono momenti culturali, di sport e ricordo. Il clou è la fiaccolata nella notte del 5 che partirà come sempre da via 20 settembre con appuntamento alle 21.30 per arrivare, dopo la sosta alla casa dello studente, al Parco della Memoria dove ci sarà la lettura dei nomi delle 309 vittime. Il fascio di luce non partirà dalla piazza interessata dai lavori ma da piazza palazzo. Il Comune ha distribuito anche quest'anno le spille della memoria e si rinnova la campagna Accendi la tua luce per accendere in ogni caso una candela al ricordo delle vittime. Ma il Comune quest'anno ha messo in piedi un avviso pubblico per invitare le associazioni a presentare iniziative e così ne è venuto fuori un vero e proprio programma. Si parte domani con l'incontro alla Mazzini tra i ragazzi e l'associazione familiari delle vittime che gireranno nei giorni successivi anche in altri istituti e un concerto dell'ISA a San Silvestro. Si rinnova il premio Abus, nel mezzo ci saranno anche mostre e proiezioni, nella lotte del 5 fiaccolata sia a Onna che all'Aquila con alle 24 la messa alle anime sante. La giornata del 6 aprile sarà scandita da diverse iniziative come la deposizione della corona alla Guardia di Finanza, il momento di raccoglimento alla casa dello studente, alle 11 l'incontro con i bambini al Parco della Memoria seguito dal concerto all'Aditorium della fanfara della Polizia di Stato. Previste proiezioni alle 18 la gara Italia Under-19 Inghilterra al Fattori. Il 7 aprile l'associazione familiari delle vittime incontrerà prima i bambini del nuovo basket aquilano al Palangeli di Sant'Elia e poi quelli dell'Academy del Real Aquila allo Stadio Gran Sasso prima del match l'Aquila San Benedettese. Sabato 13 aprile e domenica 14 aprile ci saranno proiezioni e tavole rotonde per arrivare alla giornata di lunedì 15 aprile quando l'ex campione di nuoto Manuel Bortuzzo, rimasto paralizzato dopo una sparatoria che lo ha visto coinvolto su malgrado, incontrerà i giovani dello scientifico per presentare il suo libro e portare il suo messaggio di resistenza e resilienza.